George R. R. Martin dice La fantasia è argento e scarlatto, indaco e azzurro, ossidiana venata d'oro e lapislazzuli. La realtà è compensato e plastica, rivestiti in marrone fango e grigioliva. La fantasia sa di abaneros e miele, cannella e chiodi di garofano, carni rosse rara e vini dolci come l'estate. La realtà è fagioli e tofu e alla fine cenere. In questo percorso tra fantasy, horror e tanti altri generi, costruiremo la nostra cassetta degli attrezzi e dentro ci metteremo personaggi vividi, avvincenti, dialoghi ben scritti, world building corrente e ambientazioni da sogno o da incubo. In tutto questo, grande spazio alla lettura e alla scrittura. Io sono Maglio Castagna e questo è Altri Mondi da Scrivere, il nuovo corso online della Scuola Holden. Io sono Maglio Castagna e questo è il nostro corso online della Scuola Holden.